Raga mi stavo mettendo i jeans e non quelli che mi ero provata con voi perché quelli là che ancora mi stanno un po' stretti sulla pancia Un altro po' di jeans e vi faccio vedere Perfetti Guardate che qua ancora sono larghi, con tutto faccio così Questi stavano proprio Ok Ci sono proprio perfetti raga Ma quant'ero grossa Ce l'hai una cinta? Non lo so Tra poco questi là Nelle cosce tutto stanno bene Vi faccio vedere con la maglietta Perché se non avrei problemi è uscito così Dico la verità Mi sono riprodata questa maglietta Della Guess l'ho comprata un botto di anni fa Questi jeans ecco qui vedete che brutti Sono troppo larghi quindi fanno questa cosa qui Ecco perché io mi metto quanta cosa Devo ordinarmeli un po' su Shane Sempre la taglia quella che mi sono entrati ma stavano stretti Però devo ordinarli ma oggi forse faccio un ordinino Mi danno fastidio guardate qui Come stanno Non c'ho neanche una cinta Che è che usavo la cinta Comunque Me li metto comunque Ed ecco qua Magliettina della Guess Scarpa ovviamente fuori Ma li metterò King Si è secca eh Guarda che vita Eh si Però Così era meglio Ecco Olè Raga Adoro Aspettate Quella della Pure è meglio Mi piaccio Si Devo comprare un po' di jeans Oggi me li comprerò Questi sono tipo a taglia Non so 54 Guardate E questa maglietta raga C'ho una foto Di tantissimi anni fa Ero tipo bionda Con i pelli lunghi E c'è Che bella Perché io amo la marca Guess Quindi Ti ricordi stia maglietta Come Ehi ciao bello Ti piaccio Eeeh Quanto sono bella raga Adoro Ok Outfit 8 day Olè Ciao raga Ora sono pronta Ad andare a comprare Le mette da Guess Perché se mi entra questa Mi entrano tutte C'è cosa Che taglia è la L Mi sa Si perché più grandi Non ne fanno Più grandi non ne fanno Di quello che so E vai Ciao Raga ecco Outfit terminato Con queste buffalo Adoro Bella Olè